...con la loro sensibilità artistica e personale, appassionati come sono di questa musica. Il primo brano si intitola Jerry Long, quindi fino dall'inizio è un omaggio a un musicista che abbiamo già sentito parlare su questo palco, perché abbiamo sentito il progetto dedicato a Jerry Long Morton di Elga Frankenstein, che è stata una bellissima esperienza di riarrangiamento di questi brani, e Mingus scrive un brano originale dedicato a questo grande musicista, Creolo, che ha molti punti in comune con l'Accademia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.